fratelli bianconeri e non buonasera buonasera a tutti voi ma soprattutto buonanotte perché stasera cala il sipario su una notte buia anche stasera almeno per me non è una sconfitta normale è una sconfitta che aumenta ancora di più il mio rammarico da juventino soprattutto per le parole che sento pronunciare da questo fallito di allenatore che abbiamo in panchina che continua nella sua opera di distruzione di quella che una volta era una squadra non è da solo in questo perché ovviamente il suo presidente perché non è più il mio da tempo e qualche altro personaggio come lui che gli sta vicino per aiutarlo in quest'opera di distruzione e anche stasera dopo la sconfitta si lascia andare a parole che dire che lasciano il tempo che trovano e quantomeno fare un complimento io credo che la partita di stasera abbia dimostrato soprattutto una cosa molto importante molto importante ed è questa mesi fa quando furono fatti i gironi lui disse noi la corsa la dobbiamo fare sul sul benfica quando invece alla prima partita che giocammo col psg la squadra dimostrò perdendo solo due a uno che sarebbe potuta giocare anche con i francesi pur essendo i francesi più forti ma nel calcio non si sa mai la partita più importante diventa col benfica il benfica che ho dovuto usare il pallottoliere per quanti gol ci hanno fatto in due partite e che invece non diventa la partita spartiacque come io avevo pensato ma diventa proprio la partita della dello sprofondo completo la juventus esce mestamente rispetto agli ultimi tre anni per lo meno che eravamo riusciti ad arrivare agli ottavi esce mestamente ai gironi e quindi noi adesso dovremo stare attenti perché perché ovviamente il nostro fallito che sta in panchina ha già detto palesemente che la partita di sabato contro il lecce è una partita importantissima importantissima così esattamente come quella del psg perché perché ovviamente se il psg viene a torino per farsi la partita e incamerare qualche altro milioncino per la vittoria questa squadra qui non ha speranze di controbattere il psg perderebbe sicuramente speriamo che il psg ci faccia l'occhiolino e magari si faccia battere così perlomeno ci garantiamo la coppetta dei perdenti la coppetta dei perdenti che ovviamente sarebbe importante non come trofeo perché del trofeo me ne frega meno di zero ma mi interesserebbe più che altro perché vincerla vorrebbe dire comunque assicurarsi il posto in coppa campioni ora io non credo che questa squadra abbia come dico sempre le stimmate per poter vincere una competizione europea soprattutto se c'è questo fallito sulla panchina ma tant'è la squadra dovrà essere professionista dovrà cercare di fare gruppo e soprattutto sperare visto che questo fallito che sta in panchina non dà nulla di importante per crescere perlomeno che la squadra sappia da sola fare gruppo per ottenere qualche risultato migliore di quello che fino ad oggi ha fatto la partita praticamente nei primi 70 minuti non c'è stata non c'è stata per niente è stata una partita che ha dominato letteralmente il Benfica che perché è il Benfica perché altrimenti un'altra squadra probabilmente stasera ci avrebbe ridotto dei minuscoli esserini credo ci avrebbero fatto perlomeno una decina di gol almeno invece il nostro allenatore il nostro fallito che sta in panchina perché purtroppo è ancora lì presenta in campo una formazione non battagliera ma cerca invece di andare in controllo quindi tenere la partita in equilibrio è bellissima questa come dicitura è bellissima tiene prova a tenere la partita in controllo e poi provare a vincerla cioè voi pensate che cosa lui vi ha detto provate a pensare a queste parole lui praticamente ti ha detto dobbiamo giocare a centrocampo cercando di non far giocare loro e se possibile partire in contropiede direi che è stata una tattica che ha funzionato benissimo bravo fallito bravo fallito perché tu sei un fallito bravo fallito anche stasera lo hai dimostrato grande la juventus ha finito una partita 4 a 3 allora io mi chiedo se la juventus avesse giocato diversamente quindi avesse giocato con un 4 a 3 un 4 a 3 giocando la partita in attacco no perlomeno provandoci sarebbe cambiato non lo so francamente non lo so non mi pongo questa domanda però sicuramente avrei visto la mia squadra giocare al calcio forse con un altro allenatore ovviamente non con questo fallito con questo fallito non puoi vedere giocare a calcio ora il punto dove sta provate ad immaginare voi una cosa chiudete gli occhi per un attimo e provate ad immaginare Schmidt sulla panchina della juventus e mettete Allegri su quella del Benfica voi pensate che avremmo visto questa partita? no la juventus giocava un pochino magari non molto ma giocava un po' meglio il Benfica stasera con Allegri in panchina avrebbe corso il rischio di perdere sicuro e garantito opinione personale sia ben chiaro non dico è così ma secondo me è così secondo me detto questo non voglio andare oltre a parlare perché c'ho un tale nervoso c'ho una tale ira dentro che se avessi Allegri qui davanti probabilmente lo scrosterei sapete cosa vuol dire scrostare? vuol dire appenderlo al muro e togliergli la pelle è come quando tu sbucci una banana hai presente quando tu sbucci una banana la apri e la sbucci giusto? ecco io con lui gli toglierei la pelle nello stesso modo tanto è la furia e l'ira che ho stasera io con questo fallito che sta in panchina perché tu sei un fallito e basta e basta con le dichiarazioni che fai poi a ogni fine partita da prese per il culo perché stasera lo dico da presa per il culo va bene? tu sei un fallito che te ne devi andare via perché sei un fallito sei fallito 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 tu sei un fallito di allenatore che devo ancora capire qual è stata nel mondo la grazia divina che ti fa guadagnare tutti questi soldi quando non ne meriteresti un quarto di quello che guadagni fallito che non sei altro e adesso le pagellazze allora vi premetto che ho già riposizionato il zatterone al porto quindi adesso stasera ci rimettiamo su qualcuno ovviamente non parliamo del nostro fallito che sta in panchina perché lui è al timone sicuramente e tra l'altro stasera sul il zatterone ci ho messo già 4-5 squali sono già sopra quindi come metti sopra gli danno di morso allora Scezni 6 direi che è uno dei meno colpevoli no? praticamente fa una partita senza sbavature subisce 4 gol senza poter apporre nulla non è certamente colpa sua la disfatta di stasera Danilo 5 non lo metto su il zatterone perché fondamentalmente lo reputo uno di quei giocatori che durante la stagione da quando è alla Juventus forse ha deluso meno per cui non credo che sia lui il colpevole anche se stasera come tutti ha enormemente subito il Benfica enormemente anche lui Bonucci 3 il zatterone ma messo sotto proprio legato proprio ancorato con le catene proprio per sapere che non vada neanche sopra il zatterone giocatore palesemente finito da un anno finito questo è un giocatore finito e addirittura si vocifera che a gennaio gli vogliono rinnovare il contratto brava dirigenza vai questo è il modo giusto per progettare il futuro perché noi a progettare il futuro siamo grandi bravi bravi Gatti 5 e mezzo vogliamo il primo gol secondo me insomma fra lui e Bonucci non so chi è che abbia fatto peggio ma nel complesso vogliamo colpevolizzare Gatti un giocatore che ha fatto fino adesso due partite giocando con due difese completamente diverse tutte e due le volte stasera l'ho visto bene quando è andato a rimproverare Locatelli dicendogli di star calmo e venire via perché se no c'era il rischio di buttarlo fuori secondo me è un ragazzo che ha futuro questo anche come leader di difesa guarda che cosa ti dico a me se non concesso che venga un altro allenatore e che non si continui con questo fallito in panchina Quadrado 5 altra partita un po' sottotono forse qualcosina meglio ma ancora molto lontano dal Quadrado che io mi ricordavo anche lui giocatore assolutamente da Ilza Terone ormai l'ultimo anno che alla Juventus quando andrà via gli darò un grande abbraccio virtuale perché gli ho voluto molto bene ma credo che anche Quadrado che anche stasera l'ho visto molto nervoso e si è arrabbiato con qualche compagno credo che quando i giocatori facciano questo tipo di esternazioni e abbiano questo tipo di atteggiamenti vuol dire che la sua carriera nella squadra di competenze è finita ciao Quadrado è stato bello ma c'è anche una fine McKennie io mi permetto di dargli 6 è un giocatore che ha giocato a tutto campo ma non è lui quello che dovrebbe alzare il livello della squadra lui è uno che può partecipare può dire la sua anche con gli inserimenti stasera qualche volta ci ha provato ma devo dire che fino al settantesimo del secondo tempo la squadra lusitana gli aveva negato qualche volta l'accesso in aria per cui ha fatto secondo me un'onesta partita certamente non dico uno dei migliori diciamo uno di quelli meno peggio Locatelli Locatelli molto nervoso molto nervoso ha corso il rischio di farsi espellere dal campo almeno due o tre volte e gli è riuscito molto poco di quel poco che sa fare ripeto per me è un giocatore da panchina della Juventus di una grande Juventus è un giocatore da panchina nulla più non puoi dare ai giocatori come Locatelli in mano le chiavi del centro campo mi dispiace io la penso così ripeto voglio bene al ragazzo ma in qualunque grande Juventus lui avrebbe fatto panchina forse Rabiot 5 1 2 3 passi indietro 1 2 3 passi in avanti 1 2 3 passi nel mezzo dove andiamo? è andato in tutte e tre le parti sia avanti che indietro che nel mezzo risultati ottenuti? poca roba Kostic 6 è andato diverse volte sul fondo ha messo in area due o tre cross uno più bello dell'altro che andrebbero sfruttati ma in questo momento la Juventus non c'è diciamo uno dei migliori se stasera si può trovare un migliore Ken 4 e mezzo il zatterone è andare io continuo a ripetere che sia un giocatore medio che sia un giocatore che non abbia tecnica ne ha molto poca forse velocità forse un po' di fiuto del gol ma poca roba poca roba altro giocatore da il zatterone Vlaovic il zatterone più mezzo troppo tempo che non va troppe cose che non girano non c'è con la testa non c'è con le gambe non c'è probabilmente anche in questo momento con il cuore alle volte il cuore supera gli ostacoli in questo momento credo che Dusan non abbia nemmeno il cuore forse è stanco forse non si diverte in questa squadra mi duole dirlo mi duole molto perché io credevo molto in questo giocatore ma se il Dusan che devo vedere alla Juventus è questo io preferisco che lo vendano che lo cedano perché è un giocatore che non serve dobbiamo andare su altri profili se lo vuoi tenere lo devi mettere nelle condizioni di farlo rendere cosa che non sta facendo questo fallito che abbiamo in panchina Milik Miretti 6 a tutte e due partecipano Milik fa anche un bel gol per cui direi quando sono entrati è cambiata un po' la partita Alexandro e Sule gli do 5 Sule ha sbagliato un gol abbastanza facile ma Sule è un mancino non è che potessi pretendere chissà che cosa però è uno di quei giovani anche Sule da tenere sotto osservazione Alexandro giocatore finito da tempo anche lui il zatterone sotto in catenato in mezzo agli squali Hilling 7 e mezzo sicuramente la più bella novità di questa partita di stasera ha combinato più lui in un quarto d'ora che tutta la Juventus negli altri il fallito in panchina non voglio spendere altre parole non voglio spendere altre parole perché mi voglio fermare qui stasera ho detto anche una parolaccia me ne scuso ma non ne posso più di vederlo sulla nostra panchina non ne posso più invece sembra che anche stasera sia stato riconfermato ancora una volta e ha fatto anche stasera delle dichiarazioni assurde io non capisco se o veramente Agnelli si è letteralmente innamorato di quest'uomo perché altrimenti non si spiega non so dare una spiegazione io l'unica cosa che vi dico è questa io sono Juventino in un modo viscerale viscerale ve lo garantisco se mandare via Allegri per mandar via Allegri bisogna augurarsi che la Juventus faccia una stagione fallimentare fuori da tutto se questo è quello che serve per mandar via questo fallito allora mi auguro di perdere anche a Lecce buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti